Ciao ragazzi, oggi vi faccio vedere come vado giù col monopattino. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché non so se... È da tanto tempo che sono andata a ginnastica. Non so se riesco ancora a farlo. Grazie a tutti. Allora ragazzi, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete un pollice in su. Ciao, al prossimo video! Grazie a tutti. Grazie a tutti.